Ciao ragazzi, buongiorno, buona domenica, benvenuti, ora siamo a Modena, oggi siamo a Modena, stiamo facendo operazioni di ingabbio, siamo con l'amico Domenico che ci sta aiutando ad ingabbiare e fra poco vi farò vedere una serie di immagini, è fantastico, questa è una delle mostre, è la mostra per Antonomasia più importante a livello mondiale, naturalmente puoi fare un giro, a dopo. Qui siamo in compagnia di un grande Mario Domenico, il massimo esponente del canarino ad alla bianca a livello mondiale, è uno spettacolo. Quindi ci siamo con Silvia Tesser, una delle organizzatrici di questa mostra che è stata bravissima. Più bassi, più bassi, più bassi. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Arrivo eh, un attimo. Ecco, praticamente questa è la mostra scambi, mentre quella di prima era la mostra espositiva, questa è la mostra scambi. E non so quanti mila metri quadri è questo padiglione, ma è grandissimo, vi posso garantire che è fatto di tanti stand. Ora vi mostro dove sarò io. Questo è il padiglione dove praticamente sarò io domenica, presiderò questo padiglione. Insomma, tanta roba, tanti animali e sicuramente vale la pena esserci. Bene ragazzi, allora, secondo me il 25, 26, 27 dobbiamo essere tutti quanti in questa struttura perché è una cosa di fantastico, è bellissimo, molto accogliente. E ci sarà il mondo ornitologico, si fermerà il mondo ornitologico qui a Modena. Quindi vi aspetto e ci vediamo sicuramente. Un abbraccio a tutti, buona domenica e ciao ciao. Grazie. Grazie. Grazie.